Cosa è? Cosa ho fatto? Ciao ragazzi qua a ZW, bentornati sul mio canale, siamo qua al campo dell'Eleven Football Academy a Varedo Per il video più richiesto di quest'ultimo mese Pata, giocatore ex Inter che ha fatto 10 anni di Inter, classe 2000 Contro il mitico Odu, che tutti conoscete, tra l'altro ancora non lo sapete E' tornato a giocare? Eh sì Al crema, quindi ragazzi nei commenti tutti quanti un buon augurio per la stagione di Odu Oh mi raccomando eh Adesso sono felice che ci sono tornato a giocare Ti mancava? Eh da tanto, due anni qualcosa che non gioco perché sono fermo E' una bellissima notizia questa E quale sfida potrebbe essere migliore per far scaldare subito i nostri ragazzi? Oh, Inter Milan è la sfida del secolo Ma siccome io ve l'avevo detto 25.000 mi piace, facevo la sfida tra loro due Ma 30.000 mi piace, guarda lo riconoscete? Sai cos'è tu? Quello dell'Nuckleball Pallone dell'Nuckleball, l'avete mai provato? No No Ragazzi colpendo qua il pallone farà l'Nuckleball, il tiro maledetto Quindi lasciate un mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale Road to 750.000 iscritti Guardate in quanti guardate i nostri video senza essere iscritti Non vi costa nulla raga, dicono anche voi perché a voi vi ascoltano, a me non mi ascoltano Costa nulla, scrivete Se lo merita, se lo merita Comunque partiamo subito con stop, controllo e tiro Poi ragazzi faremo anche i tiri da fuori Faremo anche gli uno contro uno Quindi li vedremo anche sfidare nei dribbling Una sfida veramente pazzesca Ma non perdiamo tempo Iniziamo Prima di continuare ci tengo a ringraziare lo sponsor del video Eneba.com Un nuovo marketplace di giochi con oltre 20.000 prodotti digitali Eneba offre i migliori prezzi sul mercato per i migliori videogiochi come FIFA 22 Le PSN Card, i FIFA Points e tutto quello che vi serve per i videogiochi Ci sono anche giochi vecchi Avete un'assistenza clienti 24-7 e con il codice avrete un ulteriore sconto Maggiori informazioni le trovate in descrizione Continuiamo con il video Ok partiamo quindi con l'Inter Partiamo con Pata Partiamo con l'Inter Quindi ho fatto questo piccolo spazio dove il giocatore dovrà stoppare il pallone E piano piano faremo sempre più piccolino il rettangolo Quindi partiamo con l'Inter 5 tiri a testa Vai Pata Ti devi caricare ancora però Vediamo Odù Pronto Odù Odù è sempre pronto Vai vai pareggio Ancora 0-0 raga io sto aspettando il gol per chiudere il rettangolo Ti pesa la 10 sulle spalle Pesa tanto Odù la mette giù Attenzione può prendere la rincorsa Nooo Sì 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 Tutte e due ragazzi ancora si devono scaldare per bene eh È tutto 0-0 Adesso ho tratto un po' di schizza la palla Di prima Non ci credo Se prendi bene è bene Eh Se prendi bene è gol Dai che si carica pure te Eccolo 1-0 Milan Adesso si farà più difficile per tutte e due Siamo 1-0 Milan Ok quindi abbiamo stretto il nostro rettangolo Fata Siamo 1-0 per il Milan E questo è il quarto tiro Il pareggio dell'Inter Attenzione Odù Ora si stringe 1-1 Ficile per Odù non esiste ricordatelo Anche questo è vero Ficile perché Stare dentro col controllo Perché è bagnato Sì Odù Sì bro 1-1 Oh no C'è da dire un po' il VAR che era un po' fuorilinea Fuorilinea? Fuorilinea Il VAR ha detto che è da nullare Ferma E Questa è buona Era buona il VAR Io sono attento questa volta Era buona Odù Era buona è questa Mi sei scaldato bene Ancora C'è ancora tempo bro C'è tempo ancora C'è tempo Perché non l'abbiamo scaldato Bello la addormenta Attenzione Odù No Odù sfortunatissimo con le traversa Spata Voglio il gol Ma sempre traversa Odù Controlla con suona Fai Bravo Uh Bello questo Uno stop Lo sticco un big Un po' particolare Oh ragazzi Adesso è veramente tosta Guardate qua Vai giù ragazzi Ma 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 Stringi o no Stringi o no Stringi o no Stringi Stringi ancora Ma io prendo il cinesi di corrento Cioè prendo il dà di corrento Mamma mia Oh Oh Odù attenzione Puoi vincere Come volo Questa è tua Posso andare a vincere io Adesso Di prima Non se lo aspettava nessuno Nessuno se lo aspettava Attenzione Pata Tre Odù due Però è il turno di Odù Quindi Odù deve fare gol per forza Se no ha perso Se andrebbe a oltranza Se la sistema lì Se la sistema lì Sì Vincere questa sfida La prima sfida della giornata Pata Che incredibilmente con questo tiro di prima Ha spiattato il portiere Perché il portiere non ha Non se lo aspettava Allora posso rifare se vuoi Va bene È giusto È giusto È giusto È giusto Prima sfida qui in Pata Ci sono altre due sfide Io voglio la sfida bella Quella dei tiri veri però Adesso andiamo a fare la sfida Le tiri veri infatti Questa cos'è Odù Questa è una sfida Questa è una sfida così Ragazzi è tostissima Mi sta ci ha messo in difficoltà Ragazzi io devo fare le sfide quelle belle Comunque ragazzi Seconda sfida di oggi Tiri liberi Ora Tocca a loro Inizia sempre l'Inter Quindi Odù Qua ti puoi rifare Sei più felice Però anche Pata adesso Vedrai che è un buon tiro Va bene Ha fatto di quei tiri assurdi Sportività Oh nooo La stai andando a prendere Mamma mia Io vado di punizione Questa è bella ragazzi Oh Odù è scatenato Così Continui a vendere pari È scatenatissimo Uno a uno Bella sfida ragazzi Uno a uno Uno a uno Tocca a pata Ui Cos'è guarda col buono Bello Qui c'è qualità Qui c'è qualità Non vede quella gore Non la vede Eh beh perché è forte Comunque non è Un tiro a giro come può essere il mio Magari piazzato Però debole Spara forte Troppo Perché cazzo Sì Come è entrato Ma è entrata Pareggio Inter Ragazzi C'è da dire che comunque Il campo è bagnato Quindi il portiere Fa molta fatica Come è entrato questa Porca miseria Devastante Pata Può andare in vantaggio Da arrivare in vantaggio Qua Stop Bello Centrale Cacciare Potente Tu sempre a giro Bello Ma che cazzo Cavolo Bra ma tu ti pali Ah tu sarai fortunato In amore Dove tu che ancora Tira a prendere legno Bellissimo questo Bellissimo raga 3 a 2 Per l'uomo Ciao Cos'è 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 Cos'ha fatto Mamma mia Sergei Odor Non è che posso parare tutto Cosa ha combinato Pata Oh vieni qua Gran gol Gran gol Attenzione Odor Continua a temerlo Scheggi Traverso e pali Mamma mia C'è quel tiro lì All'insidio Il tiro alla Odor Non è più Oto di reagire Mamma mia Se lui fa go così Mamma mia Vai Sere Avvo Queste cose tutte difficili da parare Sì sono toste perché Sul bagnato così Della sua terra Si è riscattato Sere Però si riscatta contro di te Andare di là Lo sai Sere lo sai E infatti 4 a 3 4 a 3 Decide di cambiare il lato E c'è il gol Devi chiudere la partita Sì Fata N***a A giro Vabbè Bello questa Kylian Siete pareggio La sfida è quasi finita Vi lascio tre tiri a testa Che sfida Che sfida è proprio un derby Uno Mamma 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 Vola Vola Ma da dove hai tirato Ma che gol All'incrocio È andata all'incrocio E c'è L'avevi mirato 2 a 1 Ultimo tiro di pata Se dovesse fare gol Ha vinto Bellissimo Odù vuoi fare l'ultimo tiro Ultimo tiro anche di Odù Dentro qua non pari niente Due sfide su due vinte Devastante Ragazzi anche questa sfida Quindi la vince l'Inter Adesso c'è la sfida più bella Uno contro uno E qua ci si diverte Tutte e due non sono dei difensori Tu sei un centrocampista Un trequartista Diciamo Odù è un'ala Quindi sono due giocatori offensivi E questo cosa vuol dire Che quei dribbling Ragazzi vanno forte Però in difesa Andiamo male Andiamo male in difesa Rinvierà Sergei Quindi l'esercizio si baserà Su un rinvio di Sergei Una volta uno fa l'attaccante Una volta uno fa il difensore E poi vi scambierete Cinque volte a testa E poi finisce ragazzi Va bene 2 a 0 per pata Odù Devi vincerlo questo Parti tu in attacco? Parto in attacco dai 0 No Oh La blocca Questo lo uso sempre Io lo trovo Bravo ragazzi Ma mi sa che qua Finisce veramente 0 a 0 Sì C'è il gol Dentro Però era dentro l'aria Dentro l'aria Dentro l'aria Dentro l'aria E' impossibile fare una cosa del genere Odù Madonna mi sono perso io raga Eri lì fra Non ci credo Ragazzi Mi sa che ti sei perso pure tu Con tutte quelle finte Non ci ha capito più Più Bello Ecco Rirò anch'io a farlo Madonna regà Bello Un corner l'ha salvata Quasi eh Oh che intervento Grande Ma a me la Spalletti mi faceva fare il terzino Mi diceva che assomigliava a Florenzi Ma di faccia? No perché la barba non ce l'avevo Di altezza mi sa Ragazzi siete talmente tutti e due forti Che devo fare una nuova regola Potete calciare anche da dentro l'aria Ah interessante Ok da adesso però Quindi quelli di primo modo mi dispiace Ma Va bene Non vale quella Quelli lì 0 a 0 No vai Manca due Dai Nesta Nesta No Ma c'è C'è anche sera adesso Dentro Quando ti butta così è brutta Mamma mamma Odù Odù Cosa hai combinato Quello è rapido eh C'è quel doppio passo fra che è troppo raro È troppo veloce Eh bro Sono cresciuto così è doppio passo È la sua skill Fare doppi passi Oh raga Veramente Stop Adesso guarda Mamma mia No Stai cadendo Stai cadendo Nesta Testa e Nesta Tutte e due Ha tanto così L'ho visto che un attimo Ha ceduto Perché è campo bagnato Veloce così Però È resistito Odù Attenzione Vensi Nambdi Anzi Di barco Nambdi Vai Floreno Non molla Non molla Guarda devi fare gol eh Perché altrimenti Non fai gol Questo è prezzo Guarda La porta laterale Ancora Pantacchini Il tunnel E poi Odù Diventa l'attacchiatto Sai perché ha fatto Quello tunnel Perché so che Se metti qua Lui qua Non pazza Hai capito Quindi anche se ti fa il tunnel Faccio il tunnel Poi butto il rigore Quindi Odù Questa sfida qua Di dribbling L'hai vinta C'è l'ultima Per andare sul 2-0 In questa sfida di dribbling Bello Bellissimo questo Bellissimo Lui è velocissimo Lui è veramente veloce Oh ragazzi Il video finisce qui Complimenti a tutti e due Io ho vinto 2-1 Ha vinto la sfida 2-1 l'Inter Però È stata una bella sfida Ho preso tante pallo Tanti pali Con due L Pali traverse Odù Sono stato sfortunatissimo Vieni qua GK Che manca anche il portiere Ecco qua anche il nostro GK Sere Ti hanno fatto volare Hanno fatto di quei gol Da 30 metri Pata Mamma mia Belli belli Ma che gol ha fatto Pata Da 30 metri Però ragazzi Complimenti tutti C'è un vincitore Pata Ma Grazie Io ragazzi vi aspetto Perché stiamo per andare a fare un altro video E il pallone è diverso Però vediamo Almeno 30-35 mila Sì ragazzi Assolutamente Poi Oh Seguite i nostri ragazzi Qua su Instagram Esatto Mi raccomando Perché Hanno bisogno del vostro supporto E perché nelle stories Troverete La loro vita privata E la loro carriera Quindi ragazzi Mi raccomando Seguiteli tutti quanti Io Vi saluto Ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Grazie raga